Buon pomeriggio dalla redazione di Teletruria, un cordiale saluto, iniziamo parlando di Cinema Eden, officine della cultura e liceo Piero della Francesca insieme per il futuro del Cinema Eden. Era stata annunciata lo scorso 7 marzo in occasione della serata con proiezioni a sorpresa organizzata all'Eden per festeggiare il successo della campagna di crowdfunding a sostegno delle attività del cinema retino de sé. La collaborazione tra officine della cultura e il convitto nazionale Vittorio Emanuele II, al quale annesso il liceo Piero della Francesca, è diventata realtà con la firma di un accordo che vedrà rinsaldarsi un rapporto proficuo che va avanti da anni, grazie anche al progetto Officine Social Movie. Si concretizzeranno in futuro, a partire da oggi, nuove iniziative, la possibilità del liceo di svolgere alcune attività rivolte ai propri studenti, la possibilità di portare delle attività didattiche presso la nostra sala, la possibilità di esporre prodotti dei giovani artisti, studenti del liceo e anche possibili collaborazioni in ambito produttivo. Vogliamo essere presenti nella città, sostenere tutto quello che è cultura e dare l'opportunità ai nostri studenti di confrontarsi con realtà che fanno il loro lavoro in maniera egregia. Chi l'ha visto? Ha fatto perdere le sue tracce il 4 marzo scorso, da lui da allora non si sa più nulla, si chiama Claudio Bindi e i familiari del Valdarnese Claudio Bindi hanno lanciato l'appello anche alla trasmissione, chi l'ha visto? Mio marito è scomparso da una settimana e non sappiamo più dove si trova. Ha affrontato il caso di Claudio Bindi, scomparso sabato 4 marzo da Castelfranco di Sopra in Valdarno, la puntata ieri sera della trasmissione Rai chi l'ha visto. Bindi, 62 anni, sposato e con due figli, ha fatto perdere le sue tracce più di 10 giorni fa. Quel sabato pomeriggio aveva detto ai familiari che si sarebbe recato dal barbiere. Quest'ultimo però ha dichiarato che non aveva preso nessun appuntamento e non è mai arrivato al suo negozio. I familiari, dopo alcune ore, hanno dato l'allarme e subito sono scattate le ricerche. Carabinieri, vigili del fuoco, volontari del GAIB hanno setacciato per giorni l'area dove l'uomo è stato visto l'ultima volta nella zona della Castagneta che da Pian di Scop porta alla località di Vaggio. Le ultime segnalazioni di Claudio Bindi arrivano da Valdarno Ferentino, fra figlina incisa. Poi più nulla. Quando si è allontanato da casa, aveva con sé i documenti, carta di credito e bancomat. Sono andata subito in banca per vedere se c'era altri movimenti, ma non è stato fatto movimenti. I familiari hanno lanciato un appello. A me mi manca tanto, mi manca tanto. Soprattutto per me, ma soprattutto per i miei figli, per i miei nipotini che lo stanno cercando. Quello lo vorrei, vorrei, quello lì e basta. E' stato arrestato lunedì sera dalla polizia un 31enne originario del retino accusato di stalking verso una coetanea con la quale aveva concluso una relazione. Sono stati gli agenti della volante a bloccare verso le 23.30 in zona pratale questo soggetto. In passato la ex lo aveva già denunciato in questura per atti persecutori. E lunedì sera l'uomo si è presentato sotto casa scavalcando il cancello per chiarire, a suo dire, la vicenda. Non accettava la fine della storia e già nella prima serata l'aveva aggredita ma senza conseguenze fisiche a seguito del rifiuto della donna di tornare con lui. Il magistrato di turno, visto alla prospettata gravità della condotta, ha disposto l'associazione al carcere in attesa della convalida dell'arresto. Così spiegano in questura. In bici, seguendo gli acquedotti storici della città, l'iniziativa in programma domenica 19 marzo l'organizza la FIAB, che è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, di Arezzo, in collaborazione con il consorzio Bonifica 2 Alto Val d'Arno e Lega Ambiente. Acqua, bisogno di averla e bisogno di proteggersi dalla furia degli elementi, una duplice esigenza che connota la vita di una comunità. Si snoda tra le soluzioni antiche e moderne per soddisfare queste due necessità, il percorso studiato dalla FIAB di Arezzo per festeggiare la giornata mondiale dell'acqua. Anticipata di qualche giorno per motivi organizzativi rispetto alla data del 22 marzo, istituita dalle Nazioni Unite, la cicloescursione porterà i partecipanti attraverso l'Alta Valle del Castro e il torrente Bicchieraia, un angolo interessante dal punto di vista paesaggistico e ricco di testimonianze storiche. L'itinerario toccherà le casse di espansione che servono a difendere la città dalle alluvioni, quelle sul Castro ormai ben collaudate e quelle sul Bicchieraia completate dalla regione nel 2022. L'appuntamento è per domenica 19 marzo alle 9.30 nel piazzale della stazione ferroviaria, un modo per apprezzare il territorio, la mobilità alternativa e per rispettare l'ambiente. Faccia a faccia tra il prefetto De Luca e della delegazione di consiglieri di Laterina Pergine, intanto a Capolona Franceschi scioglie la riserva. Contra la data di indizione dei comizi elettorali, il decreto del Ministero dell'Interno parla chiaro, non ci possono essere deroghe, anche i cittadini di Laterina Pergine dunque dovranno recarsi alle urne domenica 14 e lunedì 15 maggio per scegliere sindaco e consiglio comunale. La cosa ha preso di rimbalzo allo scacchiere politico locale che aveva fatto i conti con lo slittamento annunciato un mese fa e non è un caso che una delegazione del comune valdernese si sia recata in prefettura per chiedere spiegazioni e la risposta del prefetto De Luca non ha fatto altro che fare prendere atto della situazione al sindaco sciente Simona Neri e ai due capogruppi dell'opposizione Stefano Bellezza e Rossella Lattanzi. Giochi da rifare in Valdarno con un quadro ancora confuso nei vari schieramenti. La stessa Neri ha manifestato l'intenzione di non presentarsi mentre sul fronte opposto c'è chi parla di un listone che superi evidenti contrapposizioni ideologiche. Intanto sembra essere più chiaro il quadro a Capolona con Mario Francesconi, sindaco sciente che ha sciolto la riserva e si ripresenterà con la sua lista civica che cinque anni fa pose fine al settantennale dominio della sinistra nel comune basso casentinese. Nel fronte opposto si sta lavorando per unire le varie proposte emerse. Intanto anche a Caprese Claudio Baroni viaggia verso la sua riproposizione. Il comune di Arezzo ha pubblicato la graduatoria provvisoria per le case popolari. Vediamo in questo servizio. Edilizia residenziale pubblica, un tema spesso controverso. Si discute molto se il modello italiano sia sostenibile economicamente oppure no e al tempo stesso se rispetti i criteri di equità. Il problema è generale, cioè nazionale, riguarda i sistemi di gestione del mercato che si confondono con interventi di welfare. In molti sono concordi che il sistema vada rivisto. In attesa di adeguarlo alle nuove necessità, enti e amministrazioni pubbliche procedono secondo le linee guida in vigore. Il comune di Arezzo segnala che resterà in pubblicazione fino a martedì 28 marzo la graduatoria provvisoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono possibili richieste di riesame entro quella data per ottenere una diversa valutazione della propria istanza, presentando nuovi documenti purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando 19 settembre 2022 e dichiarate nella domanda. Queste eventuali istanze dovranno essere consegnate a mano e protocollate allo sportello unico o inviate via PEC o spedite per posta alla commissione comunale per la edilizia residenziale pubblica in piazza Mentore Fanfani al numero 1. Il comune non risponderà per le richieste non pervenute o pervenute fuori termine a causa di disguidi di qualsiasi genere. Questa notte ci ha lasciato Fabrizio Gudini, uno dei talenti espressi dal calcio aretino. 75 anni esordì giovanissimo in maglia maranto, difensore centrale, collezionò 40 presenze in tre anni con la maglia dell'Arezzo. Il Napoli ci mise l'occhio e lo prelevò con Luciano Monticolo, ma al contrario del possente terzino, Gudini non aveva fortuna all'ombra del Vesuvio, infatti un grave infortunio gli precluse la carriera. Un fatto che segnò profondamente Fabrizio che non ne uscì mai completamente a metabolizzare la cosa. Molto forte tecnicamente era considerato uno dei difensori italiani più promettenti. Da tempo le sue condizioni non erano buone. I funerali sabato nella chiesa della Badia. Le nostre condoglianze alla famiglia. Vittoria della Amen Sba, nel turno infrasettimanale il quintetto aretino ha espugnato il parchè della Synergy 61 a 76, ancora una volta decisivo l'apporto di Facundo Toia. Non soddisfacente la prova degli ambiti. Prosegue la marcia della Sba che fa suo il derby di San Giovanni contro la Synergy al termine di una partita sicuramente non facile per il quintetto aretino che ha dovuto fare i conti con una squadra che si è battuta con grande coraggio e vigoria. Alla fine la differenza l'ha fatta la qualità e non c'è dubbio che la classe di Facundo Toia abbia inciso decisamente nell'economia del match. La Sba dopo il primo quarto ha dovuto rinunciare ad uno dei grandi ex della serata, infatti Federico Fornara, alzato la bandiera bianca per problemi alla stiana. La speranza è che questo stop non possa pregiudicare la sua presenza sabato contro l'Agliana. Alla fine coach evangelisti non hanno nascosto la sua soddisfazione. La partita è stata lottata fino alla fine, purtroppo abbiamo sbagliato mille tiri aperti anche da sotto. La cosa che mi conforta è che stasera abbiamo vinto con la difesa perché abbiamo fatto fare 66 punti a una squadra che di solito ne fa 82, 80-82 di media, il che vuol dire che abbiamo capito che se al nostro normale attacco aggiungiamo anche questa difesa possiamo fare il salto di qualità. Non ci sono più aggettivi per definire Facundo? Facundo è questo giocatore qui, è un giocatore che penso abbia fatto 20 assist fra i lunghi e gli esterni fuori. Ci semplifica molto il gioco perché crea un vantaggio e poi lo dobbiamo solo concretizzare. La squadra lo sa e quindi dobbiamo essere pronti a raccogliere quello che lui ci crea. Bene, questa sera su Teletruria potete assistere dopo il telegiornale serale a Newsline, dentro alla notizia con Stefanella Baglioni dedicato all'iniziativa di un libro più, un rifiuto in meno. Farà seguito a 9.10 in cui Barbara Perissi parlerà del weekend che Cortona dedica a due eccellenze del suo territorio, la Chianina e il Sirà. E poi ci sarà Caffè Bollente condotto dal nostro direttore di Teletruria Luca Caneschi e alle 23 appuntamento in diretta con Alessio. È tutto per questa edizione, grazie e buon pomeriggio. Grazie. 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 Grazie.